Oroscopo del giorno, martedì 21 novembre 2017. Ariete. Toro. Amore, le stelle continuano a sorridervi e la giornata sarà tranquilla e serena. L'oroscopo vi invita a lasciarvi andare alle emozioni per viverle in pieno. Se siete single e siete in attesa di un colpo di fulmine, proprio oggi incontrerete qualcuno che vi farà girare la testa al primo sguardo. Lavoro, ottime prospettive per il lavoro, nuove collaborazioni in arrivo e qualche grattacapo che dovrete risolvere. Tutto bene. Gemelli. Amore, non perdetevi in preamboli e se avete qualcosa da dire fatelo prima che possiate ripensarci. Usate però parole gentili se dovete troncare una storia giunta al capolinea. Gradevole giornata per i single, dedicatevi alla cura di voi stessi e state in forma. Lavoro, mattinata ricca di appuntamenti, ma solo in serata concluderete trattative interessanti che potranno portarvi lauti guadagni. Cancro. Amore, intesa e complicità nelle coppie saranno oggi la conferma che il periodo di crisi è passato. Iniziate da questo momento a prendere in considerazione un futuro insieme. I single oggi si sentiranno coccolati e amati, qualcuno avrà cura di voi senza secondi fini. Lavoro, una notizia da parte dei superiori vi renderà felici. Adesso avrete la sicurezza che ciò che avete fatto è stato apprezzato. Leone. Amore, sarà un martedì molto particolare, dedicato soprattutto alla famiglia e alla persona amata. Non distogliete lattenzione dalle priorità che vi rendono felici. I cuori solitari saranno propensi a conoscere nuove persone e a vivere nuove avventure. Flirt in arrivo. Lavoro, cresce il desiderio di emergere e i pianeti vi aiutano a puntare dritto ai vostri obiettivi. Scegliete quelli che rispecchiano le vostre passioni. Vergine. Amore, state vivendo una situazione non favorevole per il vostro umore e siete confusi ma anche sfiduciati. Prendetevi una pausa e guardatevi dentro. I single avranno bisogno dell'aiuto di una persona amica per trovare la soluzione ad una questione delicata. Un ex torna a tormentarvi. Lavoro, non prendete decisioni avventate e precipitose su alcune collaborazioni che richiedono più tempo. Bilancia. Amore, non avrete di che lamentarvi oggi, il partner non si staccherà da voi e passerete una giornata in dolce compagnia. Gustatevi ogni momento. I single dovranno ascoltare l'intuito per capire se vale la pena frequentare una persona. Non sbaglierete. Lavoro, non commettete errori finanziari che paghereste caro. Riflettete prima di fare investimenti azzardati. Scorpione. Scorpione. Sagittario. Amore, piccoli contrasti in amore non fermeranno la vostra vitalità. Oggi potrete trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e le dimostrazioni di affetto vi renderanno felici. I single saranno desiderati e molto corteggiati, ma saranno ancora più confusi. Lavoro, se siete in cerca di lavoro, non aspettate che ve lo portino a casa, ma rimboccatevi le maniche. Capricorno. Amore, il passaggio della luna nel vostro segno vi rende più dolci e spontanei. Chi vi ama vi circonderà di affetto e in serata vi farà anche una bella sorpresa. Laudacia e l'intraprendenza dei single faranno colpo, farete follie e trascorrerete una serata indimenticabile. Lavoro, se avete un'attività professionale autonoma oggi avrete grande successo. Avrete la possibilità di concludere un ottimo affare. Acquario. Amore, i rapporti con le persone vicine non sono proprio splendidi e sarete poco inclini agli slanci passionali. Cercate di essere più amabili e disponibili. Per i single gli astri prevedono una giornata magica, che potrà farvi rivalutare l'opinione su una persona vicina. Lavoro, dovrete cercare di stare sereni, altrimenti non potrete ottenere i risultati professionali annunciati da Mercurio. Pesci. Amore, ottima giornata per la vita di coppia, sarete in perfetta sintonia con la persona amata ma dovete ancora rivedere qualcosa che non vi soddisfa. Se i single hanno qualche problema a relazionarsi, gli amici sono pronti a dar loro una mano per trovare nuove soluzioni. Lavoro, i nuovi contatti di lavoro promettono bene e potranno regalarvi risultati molto importanti. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Al prossimo episodio